Via Boiardo, via Scarpellini, via Poliziano e via Fratti. Quattro vie legate da un comune denominatore. Dai punti che si affacciano sul torrente genica, questo è lo scenario che si può vedere, con visibile sporcizza e mancata manutenzione in alcune parti dell'area. Tra il grigio del cemento e la trasparenza dell'acqua, a spiccare è il colore verde di un'erba rigogliosa, che molto probabilmente non si trova nel posto adatto. Una situazione che c'è stata denunciata in questi giorni da diversi cittadini residenti in queste vie, esausti di assistere quotidianamente ad uno scenario del genere, lamentando una mancata cura e custodia del torrente pesarese. Secondo alcuni di loro, la sporcizza che popola al genica è frutto di una discarica abusiva del verde da parte di alcuni cittadini, che a seguito di sfalci d'erba hanno ignorato le conseguenze, gettando gli scarti lungo il torrente. Erbacce, ma anche terra e muschio, che provocando un ristagno dell'acqua, è diventato un naturale deposito di zanzare. Quelle zanzare che anche il comune di Pesaro in questo periodo sta cercando di contrastare, distribuendo ai cittadini delle compresse antilarvali da utilizzare dove si trovano punti di acqua stagnante. Ma non finisce qui, perché dal ponte che collega via Scarpellini al parco comunale, oltre a sprazzi di giungla, si può notare la presenza di un carrello di un supermercato, probabilmente gettato e lasciato al centro del canale. Una scarsa manutenzione è una grave inciviltà che genera diverse problematiche e che il comune di Pesaro, a detta dei cittadini, deve al più presto intervenire.